Sei molto stanca e vorrei andarmene, Daki. Aspetti un secondo, la prego, vorrei presentarle. Ora vorrei... Dormire con te. No, dai, piantala, sono stanca, ciao. Perché? Chi devi vedere? Ho detto non appena siamo arrivati, questo posto non mi piace. E neanche le persone di qui mi piacciono. Lui, d'accordo, basta che mi paghi bene. Deve fare un sopralluogo su un terreno che sta trattando per la sua ditta. Sarà di ritorno stasera o domani. Ma se... Vorremmo una stanza, se possibile. Non credo ci sia disponibilità. Tieni. Mettile via. Intanto Filippo non è il mio uomo. E per quanto riguarda nostra madre, dobbiamo... Nostro amministratore non mi ha detto niente. Io le cose le so. Le sento anche. Attingiamo forza dalla nostra mediocrità e siamo convinti di usare il... che la paura, la follia... la stanza, a parte il delitto. Scusa, tu come fai a saperlo? Sei partito all'alba? Ma se sta... Te ne dovete andare, eh. Ma che cos'è? Buona sera. Ci avrei giurato. Scusa. Grazie. 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 Grazie.